Ciao a tutti e benvenuti su Cantare Rimbì, mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale e approfitto di questo momento in cui sono rimasta chiusa fuori per fare un video per voi. Allora, ho pensato di realizzare questo video perché, non so da voi, ma qua sono tipo già due o tre volte che un giorno fa un caldo mortale, che non c'è aria da respirare, e due giorni dopo fa freddo, ma freddo, che sembra fine ottobre. Siccome mi è successo quest'estate mi sono ammalata perché è praticamente impossibile che non ti succeda con questi sbalzi di temperatura, e non solo questo, se non fosse questo basterebbe anche solo l'aria condizionata che si trova nel tramone da zara, entri da zara e muori, a mettere a repentaglio la nostra voce, la salute della nostra voce. E quindi, siccome avevo fatto un video vlog, l'ultimo video che ho caricato, lo vedete, il mio primo vlog, dove io ero senza voce perché appunto avevo preto freddo, un colpo di freddo proprio me l'aveva portata via, in quel video vi avevo detto che mettevo la ricetta del bibitone salva voce sul mio Instagram. Però ho pensato di fare di più, di fare un video con tutti i rimedi che utilizzo per salvarsi da queste situazioni. Allora, premetto che sono rimedi naturali ed efficacissimi, super super efficaci, non si tratta di medicina, io non parlo di medicina perché non sono un dottore, quello dovete chiederlo al vostro medico, però vi racconto queste cose che sono i classici rimedi della nonna che però funzionano provati, ok? Il primo di tutti è la mala, che è una specie di pot, è come quella del tè, una... come si chiama in italiano? Una caraffina del tè, quelle col becco lungo, ok? In plastica, che voi riempite con acqua e sale e poi vi fate i lavaggi nasali e questo potete farlo tutti i giorni della vostra vita, ok? Oppure ha la bisogna, diciamo, quando serve e fa benissimo, in generale vi aiuta a restare sempre puliti, la voce risulta sempre chiara se fate sempre questa pratica qua tutti i giorni e soprattutto se invece siete in difficoltà perché state male, vi aiuta tantissimo, disinfetta, pulisce via tutto, vi proprio vi svuota il naso, quindi quello number one, consiglio. Metto magari qua sotto un qualche link se trovo per farvi vedere che cos'è, se volete acquistarla non link affiliati, proprio qualcosa così giusto per farvela vedere. Io ce l'ho in plastica, esiste anche in altri materiali, preferisco in plastica perché poi dopo un po' la butto e ne compro un altro, costa tipo 8 euro, 9 euro, insomma non è che costa una vita. Questa è top, se voi fate i lavaggi nasali sempre, intanto costa pochissimo perché potete usare acqua e sale e quindi perfetto. Se volete un video dedicato alla mala ve lo posso fare, fatemi sapere per capire come si usa eccetera, scrivetemelo qua sotto. Poi un altro rimedio è sicuramente i suffumigi che qua da me si chiamano i fumenti, che io ho fatto come una pazza, sembravo una fuori di testa perché faceva un caldo da morire quando li ho fatti io, cioè sono stati 38 gradi ma qua c'è un'umidità tremenda, io sotto il telo con la pentola bollente, sembravo una pazza veramente, però bisogna recuperare e quindi facevo i fumenti e potete fare così. Allora potreste fare i fumenti con il rosmarino, semplicemente fate bollire l'acqua e dopodiché buttate il rosmarino dentro e poi vi coprite con il telo, attenzione perché i primi vapori sono proprio ustionanti, quindi cercate di non ustionarvi per favore, altrimenti potete farlo con il sale sempre, che disinfetta, il rosmarino ti senti proprio più aperto dopo, ti libera un po' i polmoni, ti libera un po' senti la respirazione più facile, il sale disinfetta e anche un altro disinfettante è il bicarbonato. Io faccio le tre cose assieme e quindi proprio le utilizzo insieme, metto rosmarino, sale e bicarbonato per andarci di brutto, per essere sicura che ci sia una reazione nel mio corpo seria e infatti ragazzi se fate le due cose quindi la mala e i fumenti abbinati assieme, cioè l'ultima volta che sono stata male credo che avrei dovuto probabilmente prendere anche antibiotici, io purtroppo sono proprio portata per bronchiti e queste cose qua e probabilmente avrebbe il medico dato anche antibiotici, invece sono riuscita ad evitarli proprio grazie a queste due cose qua che mi hanno liberata e ti fanno stare subito meglio. Poi un'altra cosa che vi consiglio invece è fondamentale ed è quella di bere tantissima acqua, se già bevete tanta acqua quando state male bevetene ancora di più perché comunque fluidifica le schifezze che poi escono meglio e vi liberate prima. Queste sono le tre cose, a parte quello che consiglio sempre di riposare sempre tanto, quindi se state male non cercate, se potete, cercate di non starvi a sforzarvi a fare, intanto non cantate assolutamente e soprattutto cercate di riposarvi il più possibile perché il vostro corpo, più voi siete riposati, più lui recupera velocemente, ma è una cosa che proprio si può notare, cioè se vi capita notate come riposandovi, dormendo bene di notte, non facendo grandi sforzi, recuperate molto prima, quello che magari vi sarebbe durato una settimana, vi dura due giorni, tre e poi siete a posto. Questi sono i miei primi tre consigli, poi credo che con l'andare della stagione ve ne darò altri perché sicuramente serviranno. Quindi niente, io vi ringrazio come al solito e spero di esservi stata utile, credetemi se vi capita fate queste cose che vi ho detto e poi mi ringrazierete, va bene? Vi mando un grandissimo bacio!